Un convegno intitolato Le mani e la mente, volto a illustrare gli scenari attuali dei musei relativi all'artigianato campano e favorire la conoscenza reciproca tra le varie realtà operative sul territorio. L'intarsio, il corallo, l'arte orafa, la ceramica, la porcellana, la seta, la pelle e il cuoio, la moda in generale, il presepe, il ferro battuto, il legno, sono solo alcune delle lavorazioni tipiche dell'artigianato campano, che si tramandano di generazione in generazione nelle botteghe e nelle scuole d'arte. Ascoltiamo Riccardo Villari, presidente della Fondazione Idis Città della Scienza e Felice Casucci, assessore al turismo della Regione Campania. È una cosa ambiziosa, è una cosa a cui insieme alla Regione Campania oggi diamo iniziativa, ne daremo grande pubblicità, perché è importante che si capisca come per conservare quelle che sono le antiche arti e gli antichi mestieri ci sia bisogno però di coniugarle con un'innovazione a cui non si può assolutamente rinunciare. È una cosa semplicissima, è una cosa sulla quale stiamo lavorando da tempo, abbiamo fatto Dubai, abbiamo fatto Procida Capitale Italiana di Cultura, abbiamo fatto Milano e abbiamo inventato il marchio Exempla che serviva proprio a questo, nell'ambito di Campania Divina il marchio Exempla serviva proprio a preservare le tradizioni. Per promuovere e diffondere la conoscenza dell'artigianato campano sono nati numerosi musei dedicati a questo settore, che offrono al pubblico la possibilità di ammirare le opere degli artigiani e di scoprire i segreti delle loro tecniche. Ascoltiamo Patrizia Ranzo, architetto e designer, professore ordinario di disegno industriale presso l'Università della Campania Luigi Van Vitelli. È uno scenario molto avanzato, nel senso che a partire dal neolitico digitale che era la metà dagli anni 60 del 900 in poi, oggi abbiamo vissuto in questo nuovo millennio un'accelerazione straordinaria, che ha visto le tecnologie digitali unirsi all'intelligenza artificiale. Grazie. Grazie.